Sali scale è appositamente studiato per il trasporto di porte blindate, finestre e serramenti in genere, dotato di uno speciale meccanismo a perno mobile che permette di passare su scale 10 cm più strette del carico. Inoltre speciali accessori consentono di trasportare carichi più bassi di metri 1,40 come ad esempio finestre, ante o tapparelle. In grado di caricarsi sul furgone con apposita scaletta permette di trasportare carichi fino a 250 kg e dotato di cinghie di ancoraggio ad attacchi rapidi. Velocità regolabile da 0,44 gradini al minuto con 3 ore di autonomia, batteria ricaricabile a 220 volt, autobilanciamento del carico per non far gravare il beso sull'operatore, gomme speciale antitraccia su qualsiasi superficie, funziona su qualsiasi scala da quelle tradizionali a quella a chiocciola o a piedi d'oca. In parole povere, l'aiutante che hai sempre sognato, non ci credi, provalo gratuitamente a casa tua.